Cari amici, eccoci ritornati in compagnia di Sergio Staino che gentilmente continua con me questa bella chiacchierata. Eravamo rimasto al rapporto di gelosia nella coppia e lei ha detto che non è geloso perché la coppia comunque trova questa cosa un po' impostata dalla chiesa eccetera che in verità non è così e vogliamo ritornare. Sì, trovo che l'eccessiva importanza che viene data al sesso nella nostra società abbia una derivazione dal sistema, dalla mitologia ecclesiastica, insomma viene fuori dalla chiesa in particolare. Per me è uno dei tanti fattori umani delle cose che si fanno normalmente, non dico di come mangiare bene così semplicemente, ma poco più insomma. Credo la barbaria si misura anche da questo fatto, insomma il padre che uccide, il padre musulmano che uccide la figlia perché ha una relazione, non è più vergine e così via. E' l'esempio limite, ma è l'esempio limite comunque di un modo di intendere il sesso e gli attributi sessuali con una pesantezza per me inammissibile. Fermiamoci allora al bere, io so che lei ha anche un'altra passione oltre a tutto quello che abbiamo parlato, il vino. Lei ha detto una volta che il vino che faceva suo nonno era veramente cattivo, imbevibile, perché? Perché non sapevano farlo, perché facevano un vino fatto molto sui generis, aggiungendo anche sostanze chimiche come lo zolfo senza sapere bene i dosaggi e così via per ottenere certi effetti. So che i risultati erano drammatici da un punto di vista della qualità, però non lo ammettevano, anzi era un vino fatto da allora e quindi necessariamente doveva essere un vino buono. So che lei soprattutto adorava l'acquarello. No, l'acquarello era una cosa... Cos'era l'acquarello? Eravamo molto poveri, allora una volta strizzate a morte le vinacce per farle uscire tutto il vino, quello che rimaneva gli buttavano dei secchi d'acqua dentro lo strizzatore e quindi queste uscivano colorate, tirando fuori un po' ancora forse di zuccheri da queste... Veniva fatto fermentare e bevuto subito perché era una cosa che marciva nel giro di poche settimane, quindi bisognava smaltire. Aveva questo nome, acquarello, che è stato il primo nome che ho conosciuto. Quando più grande ho scoperto che esisteva la pittura d'acquarello, ho detto come? No, se ce ne abbiamo tanto d'acquarello e non l'ho mai usato per dipingere. Naturalmente erano altre cose. Volevo dire per rifarmi con la Chiesa che una delle cose che apprezzo moltissimo con la Chiesa è che ha salvato l'uva in Europa, insomma ricordiamocela, perché se andava avanti il mondo musulmano a quest'ora non conosceremmo il vino. Invece sono stati i nostri frati che hanno mantenuto i vitigni anche nell'epoca dura dell'Alto Medioevo. Questa è una cosa per cui quando molti preti si presenteranno al di là per entrare in paradiso, saranno fatti entrare perché hanno salvato il vitigno. Insomma, questa è una cosa buona. Senta, so che prima, anni fa, lei era foto del vino piemontese, le piaceva di più, non so se è ancora così. Ma questo fu una cosa, sei informatissimo. Questa cosa nacque con l'amicizia con Mario Dalmaviva. Mario Dalmaviva è una delle tante vittime che ha avuto l'Italia da parte della magistratura, perché abbiamo avuto tante vittime da parte del terrorismo e dalla mafia e compagnie belle, però abbiamo avuto anche molte vittime da parte di certi giudici che invece di fare giudici, nel senso serio del termine, amavano molto fare dei teoremi. Lui è stato uno dei vittimi del giudice Calogero che fece il teorema del 7 aprile a Padova, poi smontato dalla realtà. Lui ha avuto un paio d'anni di isolamento, proprio negli anni in cui aveva appena avuto le bambine, le figlie erano piccolissime, poi di lì ha avuto altri anni di carcere e quando è uscito le bambine avevano 5 o 6 anni. In quel periodo lì, dopo l'isolamento, io sono entrato in contatto con lui, ci siamo scritti, essendo lui piemontese e io toscano, il discorso è scivolato sui vini e ci siamo ripromessi di fare una gara di vini il giorno in cui sarebbe uscito, cosa che abbiamo fatto e come prevedevo perché la Toscana viene da anni bui per il vino, perché negli anni 60-70 la produzione del vino, la qualità del vino in Toscana era molto, molto, molto abbattuta come qualità. Mentre il vino in Piemonte aveva mantenuto, grazie a delle famiglie, a produttori sicuramente di una serietà superiore, sapevano vinificare meglio. Oggigiorno potremmo rifarla e allora credo che siamo abbastanza. Sì, sai, ci sono certi vini, senza muovere il sassicaia o certe cose diventate famose, il brunello, di lati si spareranno il barolo, comunque possiamo fare un testa a testa. Non è un caso che c'è anche una contaminazione, insomma vedo che molti vinificatori d'eccezione piemontesi stanno trasportandosi anche in Toscana, insomma ho visitato la cantina nuova di Gaia, la Bolgheri e insomma sono scusate. Che poi Bolgheri è una zona già per sé, no? Perché Sassicaia e Sollaia vengono tutti due di là. È una zona totalmente inventata dal genio e dal genio di queste famiglie perché Bolgheri era la zona dove mia mamma andava da piccolo, era il mare di mia mamma perché mia mamma era figlia di contadini di Scandici, Scandici era il feudo degli Antinori, la villa allora era lì e allora quando era necessario prendeva contadini dalle sue terre di Scandici le spostava a Bolgheri a lavorare le terre là, erano terre di recupero di Maremma e quindi non avevano una tradizione agricola particolare. E quando andava là naturalmente questa cosa del vino, lei andava a seguito dei suoi familiari, il vino non esisteva, il vino esisteva, erano le colline dei Colli Fiorentini, del Chianti, di Siena, insomma. Quindi è tutto un merito che va a queste famiglie. Che fanno poi oggi tra i vini più buoni veramente al mondo, si può dire rosse. Sì, siamo molto orgogliosi di loro nonostante che siano dei nobili ed io sono un proletario in attesa di rivoluzione, però terremo un occhio di riguardo a chi ha usato la nobiltà per fare delle belle cose. Anche perché un buon bicchiere di quel vino lì lo verrai sempre anche quando hai fatto la rivoluzione, mi sa. Ha preso tantissimi premi, è nascito solo alcuni per sé, il premio Tengu, il Yellow Kid. Qual è il premio che ancora non ha preso, che vorrebbe prendere, che vorrebbe avere? Ah, che non ho preso non me lo sono mai posto il problema, non ho la minima idea. Quello che mi ha ultimamente fatto un piacere enorme è stato il premio a Viareggio. Ecco. Ma non tanto, anche per me sarei un idiota a dire, un ipocrita, insomma, a dire che non mi ha fatto un piacere enorme. Ma mi ha fatto moltissimo piacere per il fumetto. Ecco, l'idea che un premio importante letterario come Viareggio si renda conto che a fianco della parola scritta c'è anche il disegno con la parola, cioè questa letteratura disegnata che ha una tradizione ormai già lunga e che si sta sviluppando, perché la graphic novel negli Stati Uniti ormai è diffusissima. Ci sono tantissime persone che fanno racconti disegnandoli sotto forma di fumetti, insomma. Quindi si capisce che il fumetto non è più né una cosa per ragazzi, come spesso si pensa, né sinonimo di robaccia. Nel linguaggio corrente italiano fumetto lo usiamo sempre come un consenso dispregiativo. Ecco, quindi un premio a Viareggio che si accorge di questo e premia uno dei suoi autori, insomma, io mi sento di condividere questo con tutti i miei colleghi, insomma, che fanno, che lavorano in questo terreno e che può essere per noi uno stimolo anche a fare il fumetto delle cose, col fumetto delle cose più belle, più interessanti che raccontino la nostra epoca, così come la si racconta con la parola, con la televisione, col cinema, con tutti i mezzi. Questo è stato, ha raggiunto un grande traguardo, diciamo, perché... Sì, infatti gli ho detto, voi mi date un premio, un fiore all'occhiello per me, ma spero sia un fiore all'occhiello anche per il premio a Viareggio, il fatto di essere il primo premio letterario che riconosce la validità del fumetto. E lo sarà senz'altro. Maestro, ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata. Spero, un giorno ti inviterò a bere un bicchiere di vino, giuro che non sarà acquerello. Ne sono sicurissimo. Anche a voi, cari amici. Ciao, alla prossima.